Prova, prova, uno, due, tre, si funziona. Allora, cari amici, allegria e benvenuti a una nuova puntata di Genius, il campionato di vita. Eh no, Mike, guarda che non è Genius, è una telepromozione. Eh, una telepromozione? Sì, Mike. Allora, Rovagnati! Eh no, Mike, non si tratta di Rovagnati, è un'altra telepromozione. È un'altra telepromozione, ma di cosa Mario Bianchi? Sì, esatto, Mike, è della serata con gli adolescenti di Napoli. Ah, ma dell'UPJ? No, non è dell'UPJ, Mike. È del canale? Sì, Mike. Allora, io sono qui e vi invito tutti a questa serata bellissima a Castronno, all'oratorio di Castronno, allora guardiamo il programma, amici ascoltatori, eh? Eccolo qua. Ora è 15, ci si ritrova a impastare a pizza. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Oh, è due, è tre. Ora è 13, è 30. San Gennaro, prega per noi. Sant'Alfonso Maria degli Cuori, prega per noi. Santa Rosalia, prega per noi. San Diego Armando Maradona, prega per noi. Andiamo in pace. Orario napoletano, cena. Compà, spezziamo la pizza. Ma non si spezza. Ma che madame è passata! È passata, è passata! È passata! È fino! È tolla vernetta! Non fa, non fa più! Non fa, non fa! Non fa, non va! Non fa, non fa, non fa! Ma va, non fa! È passata qua! Non è la vera! Non fa, non fa! Non fa, non fa! Ma che faccia seria lì, l'aria, bella? Ma in quella ciccio come vedete? Sono bellissima semplicemente Che occhia palla Ore 21, Chuck si gira Proiezione foto Funiculi funicula Funiculi funicula Allora cari amici bentornati Bentornati qui alla puntata della ruota Della fortuna No Mike, non si tratta della ruota Della fortuna È sempre la telepromozione di sabato 19 Ah è sempre la telepromozione Non l'abbiamo ancora finito? No Mike Ma io dovevo partire per la settimana bianca Qua in paradiso con quello della lavazza Vabbè allora ricapitoliamo Questa serata napoletana Alle 14 e 30 Ci si trova All'oratorio di Castronno E poi a seguire Ci sarà l'impasto della pizza I giochi I vespri E la cena Tutti insieme Con poi La visione delle foto Della vacanza Mario Bianchi Tu verrai No Mike Non posso Come Mike? Perché sto registrando Genius con te Ah vabbè Allora noi mancheremo Però ci saranno tutti gli altri educatori Mi raccomando Dovete portare 5 euro Che è il costo della serata Allora io Invitate anche tutti i vostri amici E anche quelli Che non sono venuti Alla vacanza Dell'UPJ Anche se è di canale Io dico sempre UPJ Perché mi piace dire UPJ E va bene Allora amici Io vi saluto Alla prossima Da Mike Allegria Vai vai Adesso sei di tutti Serie E poi c'è il termo Allora bentornati cari amici Continuiamo con la nostra puntata Della ruota della fortuna Eh no Mike Scusami Non si tratta della ruota della fortuna È sempre la telepromozione Per sabato 19 Ma non abbiamo ancora finito No Mike Eh ma io devo partire Per la settimana bianca Eh Eh vabbè Allora ricapitoliamo un po' Questo programma Alle 14 e 30 Ci troviamo tutti insieme All'oratorio di Castrono Poi a seguire ci saranno Alle 15 e 30 L'impasto della pizza Ho già sbagliato Eh ma se non Tipo Eh 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 Tipo Che ne so San Gennaro Prego per noi E poi andiamo in pace E noi Io ma io Però tutti i Santi Napolitani Che ne so San Alfonso Ma ora 18 Vespri Non lo dice nessuno Alfonso poi No Alfonso Maria Deliguori Alfonso Maria Deliguori De Liguori Maria Deliguori Poi c'era Poi c'era Quella che vive Aspetta E quella Passamela Passamela tu La E' questo stango E dai Prende un po' di farina Vai Dai Vai vai Siamo in onda Siamo in onda Allora bentornati Alla ruota della fortuna Eh no Mike Mi scusa Scusami Ma lo rifacciamo Ma io abbiamo Ma dov'è L'Ibilla Ma dov'è No Dai Devi stare ferma Perché ti devo tenere di lato Che poi di lato Dovete togliermelo Ciccio vai dietro la Sabrina Sì perché dietro la Sabrina Non si vede Sì Pronti Seri Io sto registrando Sto guardando le foto Sto registrando Io Io No però Scusami Bella Stiamo facendo Quando ci vediamo le foto Nel commento Sì sì Andava benissimo Ore 18 Vespri San Gennaro Prega per noi Santa Alfonso Maria degli Guori Prega per noi Santa Rosalia Prega per noi Cazzo mi è caduto Ma ma fa Cazzo mi è caduto Cazzo mi è caduto Cazzo mi è caduto Dovevate dire prega per noi Cos'è che mi tu avete detto Cazzo mi è caduto Prega per noi Ora è 15 Cazzo mi è caduto la devi fare a pizza la devi fare prova, prova uno, due, tre si funziona Mario Bianchi siamo in onda Mario Bianchi eh si Mario Bianchi